La prima edizione del Primo San Giorgio, come giustamente è stato detto, è stata istituita dall'Auditorium di Casatenò per premiare i cittadini casatesi o perlomeno che a Casatenò hanno lavorato e si sono affermati, Primo San Giorgio alle arti e alla cultura. Direttore da 30 anni della Scuola di Musica Guarnieri di Casatenò, ideatore e organizzatore di numerose rassegne per la promozione della cultura musicale. Che Molteni non solo si è impegnato molto e tanto, ma l'ho fatto con uno stile, uno stile che ho avuto modo di dire prettamente brianzolo, uno stile dimesso, uno stile umino, senza mai voler apparire. Un grazie particolare a voi qui presenti che avete voluto condividere con me questo premio. Grazie davvero. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.